Ad agosto chi l'avrebbe detto campionato vinto e Supercoppa? È un'annata straordinaria di questi ragazzi, la contentezza di tutto quello che hanno fatto c'è e non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. Oggi con questa sconfitta finisce la stagione, abbiamo perso una partita, magari male, ma siamo assolutamente contenti per quanto faccio durante tutto l'anno. Una stagione senza ombra di dubbio eccezionale dove poi è venuto fuori il Pescara, sono venute fuori individualità importanti e soprattutto ragazzi pronti per il futuro della prima squadra. È una piacevolissima sorpresa, man mano che passavano i mesi ci siamo resi conto di essere un'ottima squadra, i ragazzi sono cresciuti tantissimo e la vittoria del campionato non è stata assolutamente un caso. Quindi auguro a questi ragazzi di fare il massimo, di arrivare addirittura a giocare nella prima squadra del Pescara.